Siamo a Beira, seconda città del Mozambico. Questo è il reparto di neonatologia. Qui ogni giorno il QAM Medici con l'Africa lavora a fianco dell'ospedale per garantire la salute di mamme e bambini. Questa è la missione principale di Medici con l'Africa e questo è il reparto di neonatologia. Questi sono gli operatori che lavorano fianco a fianco a Medici con l'Africa e questo è il reparto. La mortalità infantile a Beira raggiunge ancora il 15%, cioè 15 bambini su 100 nati vivi muovono. L'obiettivo di Medici con l'Africa è di ridurre il più possibile questa percentuale e ridurre quella dei bambini e quella delle madri. Questi sono le restanze dei prematuri. E questi sono i bambini del reparto intensivo. E abbiamo il alojamento con l'Africa, che è il cangurù, che è da l'altro lato. Chefe, non vuoi parlare qualcosa? Chefe, non vuoi parlare qualcosa? Chefe, non vuoi parlare qualcosa?